Musica Onorevole Caterina Pes, in questo momento si sta affrontando un tema attuale, molto importante da risolvere, ovvero i danni causati dalla fauna selvatica. Presenti alla conferenza pescatori, agricoltori, molta delusione, molta sofferenza da parte loro comunicata? Beh, certo, è un problema tra l'altro che non risale ad oggi, ma è un problema antico e che si scontra con, da un lato, l'esigenza di difendere delle specie che sono, diciamo, protette, anche se forse oggi non più, e contestualmente però difendere il diritto dei pescatori e degli agricoltori di vivere di pesca e di agricoltura. Io credo che il problema vada risolto strutturalmente, una volta per tutte, è questo che i pescatori ci chiedono, ed è questo che ai vari livelli istituzionali noi abbiamo il dovere di fare, a livello di consiglio regionale, a livello parlamentare e vorrei dire soprattutto a livello europeo, per cui le leggi vanno anche adattate ai problemi che sono contingenti e che sono legati al bisogno di lavorare e ai diritti dei nostri pescatori e dei nostri agricoltori di evidentemente vedere garantita la possibilità del loro lavoro. Quindi noi siamo qui tutti oggi, io soprattutto per ascoltare e per lavorare, evidentemente, anche con chi insieme a me siede oggi in Parlamento, e cioè con Michele Piras, insieme per trovare una soluzione, voglio dire concordata però ai vari livelli istituzionali. Perché appunto c'era adesso un altro rappresentante dei compenditi, ci dice, noi ci siamo sempre rivolti alla regione e sembra che la regione aveva fondamentale di ascoltare, quindi questo problema deve varcare il mare, appunto come dice lei, in Parlamento per poi volare ancora più in alto, perché loro vogliono delle soluzioni, perché come dice lei è un problema antico. È un problema antico che va risolto a livello strutturale, evidentemente, non solo deve varcare il mare, ma deve varcare le Alpi, perché nelle politiche della pesca e dell'agricoltura l'Unione Europea può dire tanto e non può porre dei limiti, cioè deve allargare un po' i limiti di quelle che sono anche le condizioni di mutamento dell'ecosistema. Si è svolto ieri pomeriggio presso la sede del Circolo degli Anziani in via Cagliari 103 a Oristano un incontro tra i soci del Circolo e i maggiori esponenti delle forze dell'ordine della provincia. Argomento del giorno, le truffe. Ci sono stati dei casi anche a Oristano, sostiene il presidente del centro Benito Giglio, protagonisti della triste vicenda alcuni soci del Circolo avvicinati da dei giovani con un motivo tanto banale quanto pericoloso. Gli impostori hanno fatto credere agli anziani di aver vinto dei premi, ma per poterli ricevere dovevano prima consegnare loro delle somme in denaro. Altra truffa è consistita nel cercare di vendere agli over 65, a costi davvero esorbitanti, dei giubbotti in vera pelle che poi si sono rivelati essere dei cappotti in materiale sintetico e quindi contraffatti. Il prefetto Giuseppe Guetta, il questore Giovanni Alicuo e il tenente colonnello della Guardia di Finanza Marco Iannicelli, presenti alla conferenza, hanno spiegato ai partecipanti quali sono le principali truffe messe in atto da imbroglioni disonesti. Prima su tutte, la trappola del telefono. Gli anziani vengono chiamati e viene detto loro che qualche figlio o nipote ha avuto un incidente è che è necessario inviare al più presto del denaro. Oppure bussano alla porta spacciandosi per avvocati, carabinieri o poliziotti in borghese e chiedono di poter entrare. Magari con la scusa di andare in bagno frugano cassetti e armadi per rubare soldi e oro. I consigli degli esperti sono di non dare assolutamente informazioni sui propri conti correnti al telefono e tantomeno inviare denaro, di non far entrare nessuno nella propria dimora, di non lasciarsi avvicinare per strada da persone sospette. Inoltre, se si evite ma di una potenziale truffa o se ci si sta rendendo conto di venire imbrogliati, chiamare subito le forze dell'ordine denunciando il fatto. Agli anziani presenti alla conferenza è stato donato un opuscolo con la sintesi dei comportamenti da attuare per difendersi dai truffatori. Quello di ieri era solo uno dei primi incontri che il Circo Anziani ha organizzato per l'anno 2017-2018. Al via un calendario ricco di iniziative definite dal presidente Giglio stuzzica cervello come gite culturali e passeggiate nei luoghi storici della città, tornei di carte e partiti a tombola, gare di cruciverba, appuntamenti dedicati al movimento e alla ginnastica dolce. Infine, continua Giglio, degna di nota la collaborazione dei nostri soci per la manutenzione della nostra sede. La partecipazione è alta e siamo davvero molto soddisfatti. Al via il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione della scuola secondaria di Piazza Manno. Si tratta di un intervento da 220.000 euro finanziato dalla Giunta regionale con il programma E-Scola per l'adeguamento alle norme di sicurezza e la manutenzione straordinaria della scuola. Il piano prevede opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, il rifacimento di serramenti e finiture edili, il completamento delle dotazioni antincendio degli impianti elettrici e dell'adeguamento delle aule utilizzate come laboratori. Sarà costruita la copertura per l'accesso alla zona uffici dal cortile interno. Un intervento specifico è previsto anche per i servizi igienici con un adeguamento delle strutture per i disabili. La scuola media Eleonora d'Arborea, già convento spizzo degli evangelisti prima e reggio ginnasio poi, rappresenta per Udistano un bene di notevole importanza per la sua valenza architettonica, ma soprattutto per la sua storia e per il suo radicamento nella comunità. Così dichiara in un comunicato l'assessore Riccardo Meli. Con questo intervento contiamo di completare tutte le opere necessarie al suo pieno recupero, garantendo la migliore fruibilità da parte degli studenti e del personale scolastico. Ieri il prefetto d'Aristano, Giuseppe Guetta, ha ricevuto la visita istituzionale del nuovo comandante della legione Carabinieri Sardegna, generale di divisione Giovanni Truio, che è giunto in prefettura accompagnato dal comandante provinciale d'Aristano, tenente colonnello Luciano Paganuzzi. Nel corso dell'incontro il prefetto ha rivolto all'ufficiale uno speciale augurio di buon lavoro nello svolgimento del delicato e complesso incarico che è stato chiamato a ricoprire. Sono state inoltre approfondite le principali tematiche che interessano la provincia, dalle prospettive di sviluppo alle eccellenze paesaggistiche, imprenditoriali e culturali, sino a aggiungere alle problematiche dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al termine dell'importante colloquio, il prefetto d'Aristano, Giuseppe Guetta, ha manifestato ammirazione e appreziamento per l'opera che è l'arma e in particolare il comandante provinciale svolge quotidianamente nel controllo del territorio e nella tutela della salute, rafforzando nei cittadini il senso di sicurezza e assicurando una maggiore presenza dello Stato italiano. Anche la città di Oristano aderirà alla settimana europea della riduzione dei rifiuti. Quattro i giorni ricchi di iniziative promosse dal Comune di Oristano con il contributo dell'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, Niconfcommercio con il gruppo commercianti Amici dell'Ambiente e dell'Associazione di Promozione Sociale e Energetica. Interessanti proposte attraverso le quali si vuole sottolineare come la corretta gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell'ambiente e della natura debbano essere una delle preoccupazioni principali di ogni cittadino. Il tutto avrà inizio sabato 18 novembre alle 9.30 con Puliamo-Ristano, un momento di pulizia di una zona che ha rischio di degrado, quella dell'ex zuccherificio. Alle ore 16, presso il mercatino dell'usato, si terrà Manipolando, laboratorio gratuito di riciclo per grandi e piccoli. Domenica 19 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, avrà luogo in Piazzia Leonora la festa delle 4 R, Riduco, Riuso, Riciclo, Rispetto, con performance artistiche, mostre, laboratori e l'esposizione delle proposte del gruppo di Confcommercio, che mostrerà come il mercato può contribuire a una maggiore sostenibilità della città e offrire opportunità di risparmio e riduzione di rifiuti ai cittadini. Lunedì 20 novembre, alle ore 17, sempre in Piazzia Leonora, avrà luogo la premiazione delle migliori merende buone, pulite e giuste, create dai bambini con le loro famiglie alla presenza di una giuria di eccezione con autorità e chef di alto livello. Martedì 21 novembre avrà luogo invece la festa dell'albero. Infine, mercoledì 22 novembre, alle ore 17, presso l'Aula Consigliare del Comune, si terrà la tavola rotonda contro gli sprecchi alimentari in città. In occasione della giornata nazionale degli alberi indetta per domenica 19 novembre, verranno piantati due leci nel prolungamento di Viale Repubblica Oristano. L'appuntamento è alle 15 ed aperto a tutti coloro che amano la propria città e che sentono la necessità di trasformarla in un luogo più verde e sostenibile. Infatti, chiunque voglia partecipare, può portarsi appresso guanti e pala e contribuire così alla piantumazione dei due alberi. Ogni albero assorbe circa 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani, blocca le polveri sottili, incamera ozono e migliora il microclima. Creare boschi urbani e barriere vegetative nelle città e a fianco alle zone di grande scorrimento ci aiuta a contenere l'inquinamento anche acustico, favorendo la biodiversità e il ripopolamento faunistico. Nelle vicinanti delle zone interessate da un'intensa forestazione urbana, la temperatura si abbassa naturalmente di 1-2 gradi. Questa azione collettiva di cittadinanza attiva si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia e saranno più di 21.000 le piante che verranno messe a dimora in migliaia di città e paesi. Chioristano è l'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle. In una nota, la portavoce dei 5 Stelle, Patrizia Cadau, afferma ogni albero piantato da un cittadino è un passo in più verso un cambiamento che non si può più rimandare. Sarà un'iniziativa senza alcuna bandiera politica, distinzione religiosa o sociale. Un'azione ispirata anche alle parole dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e ai programmi delle Nazioni Unite della FAO. Come una grande comunità, metteremo a dimora migliaia di piante per tutti. La forestazione urbana è una delle misure necessarie per combattere i cambiamenti climatici e l'emergenza sanitaria dovuta all'inquinamento. Si svolgerà domani, sabato 18 novembre, a partire dalle 9, nel Museo di Ocesano Arborense, un laboratorio didattico di pittura sul tema della non-violenza, nell'ambito della mostra Un segno contro la violenza, a cura di Dina Montesu, inaugurato il 16 settembre scorso. Il laboratorio sarà tenuto dall'artista Diosi Vitoianiedu, la quale porterà con sé la testimonianza del suo popolo di pace. Un esercito pacifico composto da 99 piccole dè e madri, tutte apparentemente uguali, ma diverse nei particolari. Alla lezione pratica parteciperanno alcune classi dell'Istituto d'Arte Carlo Contini e i lavori prodotti dagli studenti saranno esposti al museo fino alla chiusura della mostra il 26 novembre. L'idea della mostra, che accoglie le opere di 32 artisti provenienti da tutta la Sardegna, nasce in reazione ai dolorosi fatti che hanno colpito i paesi di Uruna e Nule nel maggio del 2015, ossia gli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala. Di quest'ultimo non si è mai ritrovato il corpo. Da tale tragedia nasce il desiderio di esprimere la condanna della violenza da parte delle due comunità ferite, che seppur affrante dal dolore, desiderano guardare oltre la barriera del resentimento e dell'odio. Attraverso l'arte che educa il bello, contribuendo a migliorare l'uomo, si vuole così significare un incontro di pace tra due paesi della Barbagia e del Gocceano, proprio a Uristano. Durante la mattinata faranno visita all'esposizione un gruppo di alunni della Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Cabras, accompagnati dai docenti. In arrivo oltre 40 milioni di euro destinati a circa 7 mila imprenditori e agricoli. L'ultima tranche di pagamenti sull'anticipazione del 70% della domanda unica firmata ieri dall'Agenzia Nazionale per le erogazioni in agricoltura porta a oltre 90 milioni di euro la montare totale di premio comunitario giunto sull'isola dal 20 ottobre 2017. Salgono invece a circa 23.900 le aziende beneficiarie. Le erogazioni delle anticipazioni sulla domanda unica proseguiranno con cadenza settimanale fino al prossimo 30 novembre. Il Comune di Uristano si avvarrà di una short list per l'affidamento degli incarichi professionali e per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria. Lo ha deciso la Giunta Luzzo su proposta dell'assessore all'urbanistica Federica Pinna che nei giorni scorsi ha approvato una delibera di indirizzo ai dirigenti per la costituzione dei relativi elenchi. A partire dal 2018 dunque l'ente amministrativo si doterà di un elenco a cui attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di uno per il conferimento degli incarichi per l'esecuzione dei servizi attinenti all'ingegneria, architettura e altri servizi tecnici ammissibili il cui importo sia inferiore a 100.000 euro e infine di un terzo elenco per il conferimento di incarichi relativi a servizi legali. Andare lontano con la volante è possibile, 2.500 miglia per Teleton partirà dalla questura di La Spezia il 23 novembre una volante della Polizia di Stato che percorrerà l'intera penisola in lungo e in largo per raggiungere i vari istituti di istruzione polizieschi e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche. In Sardegna farà tappa al CAIP di Abbasanta il 24 di questo mese e l'arrivo è previsto il 24 dicembre sempre alla Spezia. Al via i lavori per la realizzazione di un nuovo centro commerciale a Oristano tra via Ricovero, via Umbria e via Sardegna di fronte al vecchio Foro Boario gli operai sono già in azione, l'apertura è prevista per la fine della primavera la struttura includerà un grosso supermercato e alcune altre attività probabilmente un bar e un ristorante, più diversi negozi e punti vendita i parcheggi saranno al piano terra e sul tetto del complesso. Grazie a tutti!